Il 57esimo campionato americano di uno sport che probabilmente è data dall'età della pietra. Il tiro con l'arco, dove si vede come le arciere 900 e gli emuli di Guglielmo Tell usano giovarsi di qualche modernissimo accorgimento per affermare il braccio e proteggere la mano, affinché siano all'altezza della precisione della mira. Grazie a tutti.